Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo ad Aversa e precisamente nella traversa di via Roma, la centralissima via Roma è super ideale per il tuo shopping e per le passeggiate serali e anche del giorno. Oggi ti presento questa splendida soluzione già ristrutturata, seguimi. La soluzione come vedi ci accoglie subito in questa zona al giorno, dove qui sulla mia sinistra abbiamo in effetti l'angolo cottura e qui invece un comodissimo ripostiglio. La soluzione si sviluppa poi qui alla mia destra con una prima camera al piano terra. La soluzione quindi si sviluppa con una prima camera qui al piano terra dove abbiamo finestrino e accesso all'interno del cortile che dopo vedremo. Andiamo adesso al piano superiore. Questo piccolo disimpegno ci accoglie al piano superiore dove troviamo qui una prima camera con affaccio con balconcino alla romana sulla strada di via La Marmora. Uscendo dalla camera abbiamo un primo bagno con box doccia bello ampio e super ristrutturato con colori moderni. Dopo aver visto il primo bagno a seguire vediamo il secondo anch'esso moderno con la stessa tinta con box doccia. Accediamo adesso a quest'altro disimpegno dove troviamo una piccola cameretta con accesso al balcone all'interno del cortile qui alla mia sinistra. A seguire del disimpegno troviamo l'ultima camera, una camera con finestra sulla via principale. Come abbiamo anticipato questa soluzione già pronta per essere abitata è ideale per due aspetti. Uno quello che magari può essere attivita a B&B visto che Aversa è comunque la città degli studenti o anche molto attrattiva per quella che è la zona del turismo o magari per chi è dall'altra parte in cerca di una piccola soluzione confortevole con più piccole camere a differenza di una grossa soluzione di un posto ampio perché Aversa come ben sapete ha importi elevati per il mercato immobiliare. Quindi se sei interessato ad una soluzione del genere contattaci in una descrizione e ti aspetto da vicino. Ciao! Ciao!